Dal 1983 siamo accanto ai bambini per accompagnarli nel gioco e nei momenti più importanti della loro crescita. Amiamo quello che facciamo e ne siamo orgogliosi. E amiamo il territorio dove siamo nati, il Veneto, propulsore della nostra naturale vocazione all'innovazione e alla ricerca. La voglia di trovare ispirazioni sempre nuove e di mettere il benessere dei bambini al centro si esprime attraverso prodotti 100% made in Italy, funzionali, progettati per durare. Crediamo che il design sia lo strumento più efficace per migliorare la qualità della vita. Deve trasmettere affidabilità, curiosità, stimolare il movimento. Ogni volta che diamo vita a un nuovo progetto, lo facciamo pensando a chi verrà dopo. Sostenibilità per noi è pensare al nostro futuro e a quello dei nostri figli. Per questo utilizziamo materiali eco-friendly. Abbiamo eliminato la plastica dagli imballi e siamo Partner Zero CO2, un programma di riforestazione per compensare l'impatto ambientale. Tutti i nostri veicoli su ruote sono pensati per offrire il massimo divertimento e i più elevati standard in termini di affidabilità e resistenza. Un'affidabilità che inizia con lo studio ergonomico. La ricerca di materiali robusti e sostenibili. Da sempre, Italtrike è attenta anche all'aspetto educativo. Per questo abbiamo creato tante linee dedicate al mondo educational. Ogni prodotto è pensato per favorire lo sviluppo psicomotorio e la socializzazione nell'ambiente scolastico attraverso il gioco. Tanti modelli per aiutarli a cavalcare il divertimento in completa autonomia e sicurezza. E prepararli alle sfide di domani. Grazie. Grazie.